ben trovati ben trovati ad un nuovo video tutorial firmato fabio ambrosi.it continuiamo a parlare di software e quest'oggi lo facciamo parlando di isl online che definirlo semplicemente un software forse è troppo poco isl online è un vero e proprio servizio che ci permette di accedere in remoto a qualsiasi computer noi vogliamo ma detta così può sembrare brutto no in realtà facciamo un esempio immaginate di essere smart working e di dover lavorare sul computer del vostro ufficio magari perché ci sono delle cose che dovete e potete fare solo dal computer del vostro ufficio come fare se non potete muovervi da casa ecco isl online ci permette di collegarci e accedere in remoto al computer del nostro ufficio e lavorare da casa come se noi ci trovassimo per esempio in ufficio non solo non solo perché questa cosa la fanno un po tanti software che si trovano in giro in rete isl online è molto molto valido come software soprattutto per offrire un servizio avanzato di assistenza clienti mi spiego immaginate di lavorare in un'azienda che produce software o applicazioni per cellulari e immaginate che vi chiami un cliente che vi dice a difficoltà a utilizzare il tuo software non riesco a fare questa cosa o non riesco a utilizzare la app che ho appena installato come come devo fare ecco la cosa migliore è utilizzare isl online per accedere al computer o al cellulare del vostro cliente e fargli vedere quello che deve fare oppure farlo voi stessi magari per risolvere un problema che solo voi potete risolvere ecco dicevo ci sono tanti servizi online che fanno questo ma io oggi mi concentro su questa applicazione isl online perché è semplice ecco è veramente semplice sia per voi che dovete lavorare sia per il cliente a cui dovete per esempio dare assistenza dicevo e vi parlavo di computer in remoto in realtà voi potete offrire assistenza ai vostri clienti anche sui cellulari perché questo software ci permette vi permette di collegarvi in remoto anche ad un cellulare immaginate di lavorare in una banca e vi chiamano vi chiamano i clienti e vi dicono non riesco a fare una determinata cosa con la app della banca come devo fare ecco grazie a questa applicazione potete collegarvi sul cellulare del vostro cliente che ovviamente avrà sempre il controllo e la possibilità di scollegarvi e vedrà sempre quello che voi state facendo e voi potete risolvergli il problema utilizzarlo tra l'altro è semplice sia per l'utente finale che per voi ok quindi ci sono due scenari quello in cui dovete essere voi a collegarvi sul computer del vostro ufficio per esempio su un vostro computer lontano da voi sia la possibilità che voi avete di collegarvi sul computer o sul dispositivo di un vostro cliente per offrire offrire un supporto avanzato ok per accedere ad isl online dovete andare su google e cercare isl online ma non vi preoccupate metto il link anche nella descrizione di questo di questo di questo video cliccate sul sito ufficiale del software ed eccoci qua come potete vedere è abbastanza semplice orientarsi c'è la il primo bottone in alto a sinistra che ci dà la possibilità di vedere quelle che sono le caratteristiche di questo software un po per avere una un'idea di quello che fa come vi dicevo potete collegarvi al computer da remoto ma c'è una cosa bellissima che io ho visto ed ho testato ovvero la possibilità di inserire un bottone sul vostro sito internet se avete un sito internet e fare in modo che una persona che abbia necessità di avere assistenza possa avviare una chat con voi e direttamente dalla chat voi potete richiedere il controllo del computer per dare un'assistenza avanzata supporto remoto tramite live chat è un servizio che è disponibile per qualsiasi piano di acquisto di questo software ed è molto utile ripeto se dovete dare un'assistenza avanzata ai vostri clienti poi ovviamente potete lo vedremo tra poco dare assistenza tramite email quindi inviando un link o per telefono dando un codice eccetera eccetera ma lo vedremo tra pochissimo questo software è molto potente ci permette anche di registrare le sessioni quindi se dovete avere uno storico di quello che fate perché per motivi di trasparenza qualcuno vi chiede di tenere aggiornato un registro con tutte le operazioni che fate sul computer o sul dispositivo del cliente ecco isl online vi permette di registrare le sessioni ma la cosa più importante è la sicurezza perché oggigiorno la sicurezza ne abbiamo parlato su questo canale youtube nel corso introduttivo all'informatica è importante tutelare la nostra privacy e la cosa bellissima di isl online è che utilizza tecnologie avanzate per criptare le informazioni che voi inviate quindi c'è una cifratura a 256 bit ci sono standard di sicurezza certificati che potete verificare voi stessi sul sito vedete c'è la certificazione cliccate viene scaricata appunto la certificazione fatta da società terze che certifica che l'utilizzo di questo software è un software attendibile la sicurezza rispetto agli standard minimi ecco ma non solo minimi diciamo gli standard veri e propri per la privacy e la tutela dei dati personali ci sono diversi piani intanto da poter scegliere il piano più economico è da 95 euro all'anno 95 euro all'anno e ci permette di collegarci ad un computer in remoto per un totale di 500 minuti in un anno quindi se dovete fare operazioni semplici di 23 minuti a sessione ecco per un anno potete acquistare questo pacchetto che per 95 euro vi dà la possibilità di accedere in remoto sia al computer vostro che a quello dei vostri clienti per 500 minuti che può bastare se dovete fare solo supporto clienti non troppe persone insomma dovete offrire un supporto base questo potrebbe essere un buon pacchetto ma se avete la necessità di avere sbloccati i minuti e lavorare in tranquillità per quante ore volete potete prendere questo che è il piano diciamo più più popolare ecco da 339 euro all'anno e questo piano vi permette di avere accesso illimitato in termini di tempo ai dispositivi che che voi volete controllare poi le funzionalità sono un po identiche tra i due piani cambia probabilmente solo il tempo che nel piano base è limitato in quello diciamo nel piano full è illimitato poi vabbè non andiamo nei dettagli ma se siete bravi e volete avere un avete un server e volete essere voi stessi ad ospitare questo servizio sui vostri server c'è una licenza perpetua che quindi non dovete rinnovare ogni anno che costa 690 euro un'azienda diciamo è una cifra che può permettersi tranquillamente quindi diciamo è un servizio molto pratico ed economico ma attenzione perché ovviamente c'è la prova gratuita quindi voi per 15 giorni potete testare tutte le funzionalità full del piano da 339 euro a costo zero quindi per 15 giorni voi potete scaricare questo software testarlo provarlo vedere se vi piace e vi piacerà ve lo garantisco ed eventualmente scegliere un piano come si fa beh cliccate sul bottone per iniziare e dovete semplicemente inserire la vostra mail e una password non è richiesta la carta di credito quindi potete stare tranquilli che non vi verrà debitato assolutamente nulla cosa che invece fanno altri software se volete provare isl online per 15 giorni quando poi avrete fatto il login chiaramente facciamo un esempio inserisco la mia password entro nella mia dashboard e qui ho diverse cose da poter fare ora oggi non le vedremo tutte questa chiaramente una 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 panoramica su questo su questa applicazione la prima cosa da fare quindi è avviare una nuova sessione e questa operazione chiaramente cliccando come vi dicevo su avvia una nuova sessione vi permette di scaricare l'applicazione base di isl io già l'ho installata e quindi la vado immediatamente ad aprire eccola qua come vedete un'applicazione molto semplice da utilizzare molto minimale minimizziamo io qui mi sono preparato due computer remoti che tra poco controlleremo e questo è questo è il software di partenza che voi dovete utilizzare per connettervi ai computer remoti ora vedremo entrambi gli scenari sia la possibilità che avete di controllare un vostro computer magari sul vostro ufficio sia la possibilità di offrire supporto clienti a un qualcuno che ha acquistato un vostro prodotto e a cui dovete offrire appunto assistenza vedremo rapidamente entrambi gli scenari partiamo dalla possibilità che avete voi di controllare il vostro computer intanto questa interfaccia dicevo è molto semplice avete due schede la prima che ci permette di avviare le nuove sessioni la seconda che ci permette di aggiungere i computer ad un elenco e di accedervi semplicemente con un click rimuovo questo che avevo appena inserito per fare dei test ecco di norma troverete questa sessione questa scheda vuota no perché dovete chiaramente aggiungere un vostro computer a questa a questo elenco per poterlo controllare iniziamo quindi aggiungendo un mio computer magari il mio computer dell'ufficio a alle sessioni di isl per poterlo poi controllare io vi dicevo mi sono preparato diciamo ecco qui un computer finto un computer virtuale che adesso voglio controllare o prima di andare avanti vi faccio notare come questo sia windows ok però per dimostrazione io ho la possibilità anche di controllare un sistema operativo linux o mac quindi ecco anche qui avete la possibilità di avere più il controllo su più sistemi operativi ok non funziona solo con windows funziona anche con altri sistemi operativi dicevo la prima cosa da fare è aggiungere un computer che volete controllare ok quindi imposta accesso non presidiato che è quello che vogliamo noi siamo a casa e vogliamo controllare il computer del nostro ufficio clicchiamo e a questo punto avete diverse opzioni potreste non so inviare una mail al vostro collega in ufficio perché vi installi il software oppure potreste inviare un link oppure potreste inviare un codice di sessione tra poco vedremo meglio di cosa si tratta nel mio caso specifico per esempio vado a prendere questo link me lo copio ecco qua mi apro il computer remoto ora facciamo la prova con ubuntu ok perché lì windows è abbastanza ovvio che funziona proviamo con con un sistema operativo meno utilizzato come linux incollo il link che io mi sono inviato ecco qui non vi spaventate lo potete inviare anche tramite mail vi ricordo quindi potete inviarvi una mail con il link poi quando andate in ufficio lo installate aprite questo link vedete che isl già capisce tutto capisce che voi state utilizzando linux e vi permette automaticamente di scaricare l'applicazione adatta per linux salvate a questo punto andate a lanciare l'applicazione questo è computer dell'ufficio per capirci è quindi questa operazione dovete farlo sul computer dell'ufficio estraete il file che avete appena scaricato estrai qui eccolo qui e lanciamo subito l'applicazione doppio clic ok io inserisco la password perché chiaramente un computer che necessita una password ed ecco qua la prima cosa che vi chiede isl è di impostarla una password ovviamente perché per motivi di sicurezza anche se il computer è vostro dovete scegliere una password quindi scegliete una password vi chiederà di inserire una password ora io già già l'avevo fatto quindi non mi viene chiesta una seconda volta però per esempio se dovete modificarla vedete che potete modificare la password ora la modifichiamo e cliccare su salva fine basta avete fatto il vostro computer da questo momento in poi è controllabile da remoto vogliamo fare una prova allora io mi metto questo computer qui sulla sinistra mi riapro il software is online per controllare il software vado nella tab computer e vedrete che il mio computer adesso è qui nell'elenco ok faccio un click inserisco la password che avevo scelto enter e guardate ole da questo momento in poi voi potete controllare il vostro sistema operativo eccolo qui quindi sulla scheda qui di destra avete il computer di casa in altre parole quindi al computer su cui siete comodamente seduti mentre sorseggiate un caffè e su sinistra sullo spazio di sinistra qui avete il computer remoto ok quindi il computer per esempio del vostro ufficio e potete lavorare sul computer di casa vostra come se voi vi trovaste fisicamente in ufficio voilà fine potete tranquillamente accedere alle opzioni andare su qualità e scegliere ovviamente di avere la qualità dell'immagine perfetta ecco qua e quindi vedete che ovviamente anche se avete una connessione non performante potete diminuire la qualità delle immagini per risparmiare banda però ecco chiaramente lavorare in remoto se avete una buona connessione è identico a lavorare in in ufficio in questo caso ma immaginiamo immaginiamo spegniamo il computer immaginiamo di dover offrire assistenza ad un cliente ok che quindi non è pratico di computer quindi deve stare a scaricare soft guardate quanto è semplice offrire assistenza ad un cliente immaginate che voi siate al vostro call center o al vostro nel vostro reparto vi chiamano e vi dicono a dobbiamo fare assistenza al cliente x voi telefonate all'utente x e gli chiedete qual è il problema e lui ve lo spiega e voi capite che dovete accedere al suo computer per poter risolvere il problema bene dalla vostra interfaccia cliccate su avvia una nuova sessione automaticamente vi viene generato un codice questo anche qui è un software isl molto versatile perché potete scegliere diverse opzioni potete dare al vostro cliente questo codice e tra poco vi spiegherò come deve utilizzarlo potete sempre inviargli una mail con un link che il vostro cliente deve cliccare per scaricare il software che vi permetterà poi di accedere o potete anche dare questo codice per esempio su whatsapp per esempio quindi sia per telefono che per whatsapp l'importante che l'utente finale abbia questo codice ora mi metto nei panni dell'utente e io sono l'utente sto chiedendo assistenza oddio non so utilizzare windows per qualche motivo e non so fare come devo fare bene io utente sto parlando con il servizio clienti servizio clienti mi dice guarda vai sul sito isl online ok e inserisci dopo aver cliccato sul bottone partecipa ad una sessione un codice che io adesso ti fornisco e il codice che voi fornirete è esattamente questo ok quindi copiamo il codice eccolo qui come avete notato possiamo copiare anche la urla di cui stavamo parlando prima date il codice al vostro cliente il vostro cliente inserisce il codice e cliccate su collegati bene automaticamente il browser scarica un'applicazione e voi direte al vostro cliente clicca su questa applicazione cina e lanciala ok perfetto da questo momento in poi voi avete accesso al computer del vostro cliente non servono password non serve nulla potete lavorare sul computer del vostro cliente e risolvergli quindi il problema facciamo come abbiamo fatto prima mettiamo sulla sinistra il computer del cliente e sulla destra il nostro il nostro isl ecco qua quindi io sono sto offrendo un servizio di assistenza clienti e posso lavorare direttamente sul computer del mio della persona a cui sto offrendo assistenza quindi posso navigare posso accedere al suo computer fare quello che devo fare ma posso anche fare cose molto interessanti come per esempio evidenziare una porzione di schermo no per esempio sto parlando con il mio cliente gli dico guarda hai sbagliato perché tu hai cliccato su questo bottone devi cliccare su questo bottone e glielo evidenziate e il nostro cliente vedrà il bottone evidenziarsi quando avete terminato potete tranquillamente chiudere la sessione cliccando questo bottone ringraziare il vostro cliente e se ne andrà sicuramente soddisfatto o io ora vi ho dato una panoramica molto molto rapida su quello che è isl e che cosa fa questo fantastico software ovviamente se andate sul sito ufficiale di isl online troverete maggiori informazioni e troverete anche dei fantastici video dimostrativi che vi mostrano un po quello che abbiamo detto io non ne ho parlato però voi potreste per esempio installare un bottone sul vostro sito internet e semplificare ancora di più l'accesso all'assistenza per il vostro cliente la cosa più bella di questo software che vi dà la possibilità di installare un bottone sul vostro sito internet personale come state vedendo in questa dimostrazione che fanno direttamente sul sito gli sviluppatori e voi potete aggiungere una chat sul sul vostro sito parlare con il vostro cliente dare al vostro cliente un link da cliccare e da quel momento in poi voi potrete controllare il computer per dare assistenza quindi diciamo che ci sono diversi modi per offrire assistenza con isl tutti molto validi e tutti molto sicuri perché vi ricordo che all'utente finale ha sempre la possibilità di buttarvi fuori quindi non è che avete avrete per sempre controllo del computer remoto del vostro cliente diciamo che è utile per dare assistenza temporanea e chiaramente poi lasciare il cliente a se stesso potete chiaramente andare sul sul sito cliccare su prova gratuita ed avere accesso a 15 giorni gratuiti di test per isl online un software che io vi consiglio di valutare soprattutto se dovete lavorare a distanza o se siete un'azienda che deve offrire un servizio avanzato ai propri clienti grazie per avermi seguito vi ricordo www.fabioambrosi.it li trovate anche il tutorial di questa di questo software se volete approfondire vi ricordo di seguirmi su facebook cercate fabio ambrosi iscrivetevi a questo canale youtube cercatemi anche su instagram e basta al prossimo video tutorial ciao